L'assessore regionale Raffaele Donnini vuole incrementare la diffusione della banda larga anche nei nostri territori, nei nostri comuni, come già avvenuto in alcuni comuni dell'Appennino, della Romagna e vicino a Bologna. C'è il suo impegno a portare attraverso l'epida la fibra ottica negli edifici comunali e soprattutto a far sì che anche in ogni casolare del Comune di Berceto ci sia la possibilità di fruire della banda larga. È venuto l'ingegner Mazzini, responsabile tecnico di Lepida, a illustrare le condizioni attuali che hanno visto delle società a vincere gli appalti nazionali proprio per coprire con la banda larga nelle nostre zone. Adesso c'è da lavorare ancora molto perché le scadenze che ci siamo dati come Comune, sollecitati dalle esigenze dei cittadini, che sono veramente sollecitazioni forti, perché senza internet nelle nostre zone non si può pensare a un futuro, cerchiamo quindi di portare e di collaborare effettivamente perché ci sia la banda larga in ogni casolare del Comune di Berceto. Prossimamente faremo delle riunioni, degli incontri con le ditte che hanno vinto gli appalti nazionali e quindi vogliamo raggiungere questo obiettivo come ci è stato promesso entro l'estate. Spero che soprattutto le giovani generazioni di Berceto e non solo affianchino l'amministrazione nel far sì che ci sia una sollecitudine vera nei confronti di Lepida, della Regione e del Governo, perché la banda larga si è diffusa in ogni territorio del Comune di Berceto. Questo è l'obiettivo e desidero essere aiutati da tutti per raggiungerlo. Grazie. 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 Grazie.